Le mie congratulazioni a Marco Marsilio, primo presidente della storia della regione Abruzzo a essere riconfermato per un secondo mandato dai cittadini e il mio ringraziamento a tutto il centrodestra che è stato premiato per il buon governo di questi anni, perché non importa quanto un campo sia largo, quello che conta e quanto quel campo sia coeso, quanto abbia un'idea chiara da raccontare e da costruire per i cittadini e noi faremo tutto quello che possiamo per non deludere le aspettative dell'Abruzzo che ripone grande fiducia in noi. Grazie Abruzzo.